Il ruolo del cristianesimo in questa fase di crisi della politica, di diffondersi dell'antipolitica e quindi un po' di rassegnazione di scetticismo nei confronti della stagione dei grandi ideali della politica, la politica non sembra più materia dei grandi ideali e noi credo, certo, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè rilanciando anche orizzonti più alti della questione della condizione umana e quindi sociale e quindi anche della comunità umana, però in particolare credo noi potremmo avere un ruolo su questi due fronti. Il primo è quello, diciamo, che va a rinforzare la questione di quello che io chiamo il godimento simbolico della qualità umana, appunto, che non è fatto soltanto di possesso e di consumo di beni materiali. Questo ovviamente c'è un tema di formazione che però vada ad illustrare appunto il godimento, dico, è il nostro interlocutore, è anche il nostro antagonista, ma non solo, ma è anche interlocutore perché il desiderio di felicità, il desiderio di soddisfazione è un desiderio profondamente umano e oggi siamo convinti che tutte le persone abbiano diritto ad avere questa apertura e noi possiamo rinforzarlo, possiamo rinforzarlo anche praticamente perché le comunità cristiane, le comunità dei credenti, le comunità religiose, possono occupare questo spazio, cioè mostrare la bellezza, la profondità, la forza, l'interesse, il senso di animazione che viene alla condizione umana nel momento in cui si dedica, come dire, al godimento simbolico delle proprie qualità migliori, la riflessione, il dialogo, l'arte, la rappresentazione, la creatività, l'invenzione. Questo secondo me oggi noi possiamo farlo come antidoto, ecco, alla voricità di un sistema dei consumi che anche il godimento simbolico lo fa diventare merce, spettacolo, insomma, di poco valore, ecco, di evasione, di passatempo, eccetera. Il secondo elemento di apporto, secondo me, è, diciamo, la possibilità di elaborare, di rendere persuasiva l'idea che c'è una felicità, anche qui uso apposta questo perché è un po' la chiave moderna, una felicità del prendersi cura della comunità, che non è questione di dire, beh, il cristianesimo è uno che si svena purché la comunità appunto funzioni bene, no? Il cristianesimo è uno cristiano è uno disposto anche al sacrificio necessario, ma che ama condividere questa idea che c'è una soddisfazione che sta diventando ignota a noi e che quindi inquina anche la politica, nel lavoro bello, nel lavoro per abbellire la comunità, per farla diventare appunto, come dire, una comunità nella quale è bello stare, nella quale è bello cooperare, nella quale è bello occuparsi gli uni degli altri e occuparsi anche delle cose che sono comuni, che non sono di nessuno, ma che sono appunto il luogo nel quale la comunità ritrova la propria, la felicità appunto della relazione, del legame, dell'essere insieme, pur nelle diversità e anche nelle divergenze al limite sulle cose della vita. Questo mi sembra, diciamo, l'altro apporto propositivo che noi potremmo dare appunto, è quello che Gesù chiama il regno di Dio, cioè tu scopri come un tesoro di avere già nel tuo campo qualche cosa che vale di più, ecco, di tutte le cose che ti servono semplicemente per sopravvivere. Questo, secondo me, è la premessa indispensabile, perché altrimenti la crisi della politica diventa subito crisi economica. Il problema è risolviamo la crisi della politica producendo di più, aumentando le risorse, diciamo incrementando la circolazione del denaro e queste sono operazioni non solo in sé aride, ma obiettivamente selettive. Questo tipo di rimediare alla crisi della politica con il potenziamento dell'economia produce un effetto selettivo, cioè fa diminuire i membri della comunità che possono aspirare appunto a questo godimento simbolico. È una cosa che vediamo quando dicono si allargano le disparità, si allargano le... Oh che sorpresa, perché la gente è egoista, no? Perché il tentativo ostinato, è vero che la pubblicità ci raccomanda ogni giorno, di incrementare la qualità del vivere insieme con i mezzi dell'economia, semplicemente con i mezzi dell'economia, invece che con i mezzi della politica e cioè con i mezzi di una visione di contenuto, una visione propositiva delle buone ragioni che gli umani hanno per essere insieme, per stabilire legami, per creare cose nuove, è un vicolo cieco e ci sta semplicemente soffocando. Quelli poi che sono più poveri popoli, che sono ancora più in crisi perché anche le loro leve economiche sono modeste e naturalmente affonderanno prima.